italiani eccomi di nuovo ogni tanto vengo a chiarire alcune cose e quando mi vedete così a vuol dire che ho un messaggio che devo portarvi a nome mio a nome di tutti stranieri tutti immigrati che sono in italia africani e non ecco oggi sono qui e mi pongo una domanda e le risposte le risposte le vedrete attraverso le immagini che farò vedere questo non è un live così che racconta ma anche le immagini che vi farò vedere dovrò farvi riflettere io vivo in italia sono con voi sto vivendo questa malattia questo coronavirus insieme a voi ecco quando vedo un partito politico o un leader politico che ha costruito il suo impero sulla nostra pelle aspettavamo solo il momento giusto per dare risposte a lui e al popolo italiano io sono qui oggi solo per questo per dirvi quello che io ho vissuto quello che io ho notato dalla politica italiana dopo aver visto il popolo italiano che cambia faccia da un giorno all'altro nei nostri confronti per un attimo questo partito politico o questo personaggio politico che vi ho detto ha costruito il suo impero dal 3 per cento al 34 per cento grazie a noi non ci sentiamo mai dire grazie ma ogni giorno che ci svegliamo sentiamo lui crescere sempre sulla nostra pelle laddove non ci entriamo niente ci accusa perché ha il suo popolo che lo ascolta e questo popolo sta allargando attraverso le sue fake news questa sua macchina enorme che ha costruito che chiamate la bestia ok che spera che un giorno crolla si scioglierà come il ghiaccio io ho intitolato questo mio video di che cosa ho paura io non ho paura del coronavirus ma ho paura di questo per uno poi vi dirò altre cose buongiorno pronto buongiorno prego parlo con capi sono io ti sentire sono gianni di alessandria si buongiorno di alessandria ogni tanto chiamo che riesco a prendere la linea perché da voi come fare un terno all'otto per la linea mi dispiace ti sentire prima di tutto siamo fortunati in alessandria che non si è verificato nessun caso giusto siamo fortunati la seconda cosa la seconda cosa lei che è molto esperta in materia come mai nessun estracomunitario marocchino aggerino quelli che sono in italia non si è verificato nessun caso un'altra cosa loro che arrivavano che avevano pibocchi scambia ads non si è parlato di nessun estracomunitario che ha preso il virus coronavirus me lo dica lei ha mai sentito dire che un marocchino è ricoverato all'ospedale ma scusi signor gianni signor gianni mi scusi ma perché il problema qual è che lei vorrebbe che un extracomunitario si ammalasse no esatto quanti milioni di estracomunitari ci sono in italia non ho sentito dire di un marocchino un extracomunitario mi scusi mi scusi mi sfugge il problema mi sfugge il problema allora il il coronavirus finora ha colpito pazienti italiani anziani non capisco a cosa c'entrino gli extracomunitari mi perdoni ma scusi perché se è un discorso di razzismo la saluto immediatamente no le dico se è un problema di razzismo la saluto immediatamente perché si dovrebbe ammalare un extracomunitario perché le dà fastidio perché dobbiamo ammalarci noi italiani che sono venuti dalla cina stupi ma io mi scusi ma io davanti a certe affermazioni abbia pazienza cioè abbasso le braccia perché io capisco tutto guardi mi creda ne ho sentite di ogni dove perché è da quando è scoppiata l'emergenza che sono per strada però abbia pazienza cioè che adesso ce la dobbiamo prendere perché il il covid 19 lo prendiamo noi italiani non solo prendono gli extracomunitari signor gianni signor gianni io la saluto la saluto buongiorno togliete questa telefonata perché cioè veramente credo che tutto abbia un limite scusate se poi mi sfogo sempre che vado sempre un po sopra le righe però abbiate pazienza cioè insomma che adesso dobbiamo pensare che non ci dobbiamo ammalare noi ma che si devono ammalare gli extracomunitari cioè insomma voglio dire siamo tutti figli di dio davanti a un unico a un unico giudizio poi che gli extracomunitari ci siano antipatici per determinati motivi che non li sopportiamo per altri ma qui si tratta di salute umana cioè cerchiamo poi ci poi ci lamentiamo se c'è cattiveria in giro ma se questo è il pensiero ma per la carità di dio ma veramente per la carità del signore io non ci sto scusate ma io non ci sto io non sto né con gli extracomunitari né con gli italiani perché ci sono ladri italiani ladri europei ladri asiatici quelli un po meno ecco questo signor gianni per me chiamarlo signore e anche troppo per me ma lo chiamo un rassista nel vero nel vero senso della parola ok dimmi tu che mi stai guardando hai ascoltato questo signore e ringrazio questo giornalista che ha risposto nel modo più giusto a questo signore che ha parlato dopo aver sentito questo suo il signore che vi ho detto prima quello che sta diffondendo l'ogio totale in italia il signore che ci ha messo noi contro di voi che ha un nome e un cognome si chiama matteo salvini il leader della lega nord che dal 3 per cento è arrivato al 34 per cento non per la sua intelligenza non per il suo lavoro non perché il politico più grande ma ha usato il mezzo più facile per raggiungere voi e 34 per cento di voi hanno dato ascolto a questo signore qua ma lassù esista esiste un dio ecco questo signore avete sentito ha parlato italiano e non ha parlato senegalese o arabo qualsiasi cosa italiano e ha avuto la risposta da una italiana questo ci conforta un po per dire che non tutti gli italiani la pensano come salvini la pensano come questo gianni che non chiamo signore lo chiamo rassista e come ha detto bersani scherzando l'altro ieri sicuramente avrà sentito questo signore qua quindi noi dobbiamo sentirci in colpa perché non ci sentiamo male perché non abbiamo il coronavirus e viviamo qua siamo milioni in Italia dobbiamo sentirci in colpa perché non ci ha toccato questo è il giudizio divino io lo chiamo perché dimmi un po' se per puro caso lo chiedo a te italiano italiana che mi stai guardando se per puro caso questa malattia in Italia se lo aveva portato un immigrato in Italia avete sentito due tre mesi fa salvini che cercava i pieni poteri l'avrebbe avuto i pieni poteri se questa malattia l'avevo portato io in Italia o i miei simili che cosa sarebbe successo oggi l'avete sentito questi giorni che il governo italiano per fortuna divina lui si è levato dalle palle scusatemi la parola ma che un governo decente sta gestendo in modo egregio questa situazione lui esce con il suo solito disco rotto fermiamo le barche di qua e di là signori ma avete notato che Salvini vi sta portando sfiga Salvini aveva detto prima gli italiani e gli italiani adesso sono diventati gli immigrati non li vogliono da nessuna parte Salvini vi ha detto prima il nord e il nord è il più la zona dove ci sono più 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 persone infette la stessa persona mentre siete nella cacca sta continuando con le persone come lui a dirvi di fermare di chiudere le frontiere ma ricordate questo signor Salvini che le frontiere sono gli altri a chiudere l'Italia grazie a lui lui ha questo questo consenso popolare 34 per cento perché aveva fermato le barche se che spruava le persone le teneva lì per 19 giorni per avere i titoli dei giornali dirette facebook lui era l'uomo il salvatore dell'Italia ma vi rendete visto ricordate di queste parole continua oggi che siete così e lui viene a parlarvi delle barche perché viene a dirvi i soldi spesi per queste barche qua potevano comprarsi letti oggi e perché hanno speso dei soldi la comunità europea non l'Italia perché la parte che ha messo l'Italia quando egli è diventato mister interni ha dimezzato ha tolto quella parte italiana quell'altra parte della comunità europea non i soldi vostri no non sono soldi italiani la prima cosa che ha fatto dei 35 euro che gli davano al giorno alle strutture che gli ricevevano gli ha messi a 30 o 31 euro quindi ha tolto la parte italiana e continua a farvi credere che siete voi a mantenere questi immigrati non è vero ma c'è gente come Gianni che crede a questo ok quindi le fake news che recitavano i suoi post le sue dirette facebook spero che l'avete capito oggi immagina il signore che oggi viene a raccontare agli italiani a 60 milioni di italiani che i soldi che abbiamo speso per gli immigrati ok se l'avevamo spesi per i letti gli italiani non avrebbero questo problema oggi di avere letti negli ospedali per raccogliere gli italiani che sentono male io mi pongo una domanda e lo chiedo anche a voi tu che mi stai guardando italiana italiano meglio o alto se per puro caso questo signore qua noi immigrati che per fortuna divina fino ad oggi non c'è stato un caso o non lo sappiamo ancora perché io faccio una trasmissione per il mio paese cerco di spiegare nella mia lingua tutti i familiari che stanno lì in Africa i loro figli che vivono in Italia che sentono questa malattia che gli italiani non li vogliono in nessuna parte li stanno chiudendo le frontiere le barche dove parcheggiano non li vogliono non li fanno scendere così come faceva questo signore fino a quattro mesi fa signori riesci tu italiano a immaginare a immaginare mille immigrati con il coronavirus oggi ospitati negli ospitali italiani che cosa avrebbe detto Salvini e la sua gente che cosa avrebbe detto Alessandro Meluzzi Mario Giordano Daniele Capezzoni e gente come loro Vittorio Feltri e questa cricca questa banda li chiamo uno che viene a dirti che per i soldi spesi dagli italiani per gli immigrati potevano comprarsi i letti se gli stessi immigrati avrebbero occupato questi letti che cosa avrebbe detto è una domanda sarebbe una campagna già la campagna la fa eterna quando dorme fa campagna elettorale va a mangiare salcicce nelle sagre da tutte le parti usando noi prima col sud e prima di allungare vi faccio ricordare perché lui dice di essere coerente ascoltate cosa diceva a quelli che arrivavano dal sud prima quando era la padagna l'unico posto che esisteva in questo paese la padagna qua padagna di là e il sud di là ascoltate Salvini cosa diceva il signore che dice di essere coerente che gente come Gianni questo ignorante crede ascolta poi continua i produttori ecco sicuramente noi non siamo una speranza per i parassiti noi non siamo una speranza per i 30.000 forestali della Calabria per i lavoratori socialmente utili di Napoli per questa gente noi non siamo una speranza ma perché dobbiamo pagare lo stesso stipendio alla maestra che fa bene il suo lavoro e alla maestra che non sa parlare l'italiano perché arriva da chissà dove non possiamo avere maestre piemontesi in Piemonte maestre venete in Veneto vigili urbani lombardi in Lombardia prima la nostra gente prima i padani e se dobbiamo andare oltre a rispetto di Bruxelles anche prima gli italiani per quanto riguarda l'altra parte del paese io dalle mie parti avrebbero detto alla faccia della coerenza quelli del sud che ha insultato in tutti i modi dal 93 ero qua in Italia quando li insultava del puzzolente gli ha dato di qualsiasi cosa ecco perché mi viene da vomitare oggi quando vedo gente del sud dalla Sardegna la mia Sardegna ok da Napoli che votano Salvini che seguono questo pappagallo col suo disco rotto oggi è diventato italiano che diceva fuori dall'Europa oggi è europeista alla faccia della coerenza avete sentito con le vostre orecchie io non dimentico ma continuo a ricordarvi questa domanda che vi ho fatto mille immigrati lì in terapia intensiva occupando dei letti pagando le tasse come gli italiani io le tasse le pago la sua scorta ho sentito ieri che un poliziotto ha preso la malattia lui dice che era a distanza due macchine della polizia dello stato pagato da voi pagato da me e da migliaia di immigrati ma lui guarda i soldi che pagano per l'immigrato che è arrivato nel barcone quanti soldi versiamo noi immigrati ogni anno qua sono otto i miliardi del lavoro che facciamo noi lavoriamo possiamo dire di essere dei lavoratori io lavoro Salvini non ha mai lavorato in vita sua va in giro a mangiare le sagre mangio italiano di qua di là non sa neanche il prodotto che arriva la turchia che mangia nutella tra parentesi ok per dirvi chi è questo uomo chi è questo uomo coerente con questa propaganda mattina e sera propaganda ogni momento ogni cosa oggi ha provato con gli immigrati le barcone gli italiani sono stufati di sentire questo suo discorso rotto non sa dove mettere la testa ha detto non più tardi tre giorni fa voleva far cadere questo governo ok per creare un governo nazionale roba che quattro mesi fa non voleva sentire si va alle elezioni adesso che sta calando e calerà di più questo ve lo dico io perché non può nutrirsi di immigrati a vita è impossibile questa roba qua è andato a dire le proposte dopo che ha provato con le barche i barconi di qua gli italiani le hanno girato le spalle adesso esce con le proposte proposte che sa che il governo che c'è attualmente il governo Conte sta funzionando alla grande stanno gestendo nel modo più egregio possibile questa situazione così non sa più dove sbattere la testa viene con le sue proposte distribuisce miliardi da destra a sinistra di quei commercianti industriali mamme bambini figli miliardi che questo parole perché lui non è al governo però vuole mettervi contro come ci ha messo noi immigrati contro di voi questo governo che sta lavorando senza parlare l'unico che esce con le dirette facebook è Salvini guarda caso o Lammeloni gli unici due personaggi che escono a denigrare il lavoro che sta facendo in modo egregio questo governo attuale vogliono venire con 3-4 proposte del cavolo che loro stanno già facendo per dire che l'abbiamo deciso per togliere il merito un domani viene a dirvi che è merito nostro Conte prendi le sue proposte con Lammeloni mandali dietro tanto la maggioranza ce l'avete voi con i voti di Salvini o di Meloni messi assieme non vi tolgono nulla passa lo stanno facendo è un trucco un tranello per dire domani agli italiani gli immigrati visto che nessuno si è ammalato nessuno ha preso un letto né nulla andiamo a prendere il merito del governo svegliatevi ok Salvini Bossi che attaccava gli immigrati che fine ha fatto lo sai dove è finito ok Calderoli che è ancora con te dopo Bossi è con te io vi faccio vedere gli italiani immagini che non avete mai visto forse o non ci avete prestato attenzione su Calderoli quando accusava un deputato nero come me Sicilia diceva dallo rango tango umiliare una donna una africana una immigrata che è diventata italiana come Calderoli l'ha messo sotto al punto che un'equipe italiana l'ha fatto ma l'ha fatto vedere una televisione francese io vi faccio vedere queste immagini cosa è successo a signor Calderoli sempre la Lega Nord che voleva dividere l'Italia prima in due oggi sono diventati italiani prima mentre prima la padagna come prima poi il nord adesso existe anche il sud e vanno votarli vergognati voi che votate Lega Nord e Salvini essendo lì in Sardegna in Sicilia in Puglia a Napoli guardate cosa è successo sta parlando in francese una televisione francese l'ha mandata ok se non lo capite ve lo dirò io ascoltiamo il video e on en vien a cette histoire rocambolesque un politicien italien a sure avoir été marabouté depuis la république démocratique du Congo toute la presse italienne en parle il s'agit de Roberto Calderoli ancien sénateur de la Ligue du Nord le parti d'extrême droite qui avait traité d'Oranhoutan Cécile Kienghe alors qu'elle était Ministre de l'intégration en Italie Ecoutez les précisions de Mehdi Medev qui suit cette affaire depuis Kinshasa Pas de doute pour Roberto Calderoli il en est persuadé d'avoir subi la macumba d'avoir été ensorcelé il en veut pour preuve ses déboires personnels ses pépins de santé c'est vrai qu'il les accumule entre le décès de sa mère ses hospitalisations à répétition il a été deux fois en réanimation dernière preuve en date il a trouvé dans sa cuisine un serpent long de deux mètres un serpent qu'il a dû tuer ce ne sont pas des sornettes le responsable de son ensorcellement serait le père de Madame Kienghe qu'il a comparé vous le disiez nous en Outan ce père de la Ministre est un chef coutumier qui vit dans le Katanga chose étrange une équipe de journalistes italiens avait filmé il y a un peu plus d'un an une scène d'ensorcellement qui s'était déroulée dans le Katanga une scène en fait au cours de laquelle le chef Kienghe appelait à chasser les démons de la tête de Roberto Calderoli et c'est vrai qu'en matière de démons il en voit de nombreux que ce soit les musulmans les noirs les homosexuels ou encore les immigrés à l'époque la vidéo avait fait sensation elle avait aussi indigné mais aussi nourri un peu plus le racisme du côté de chez nos amis italiens la semaine dernière donc Roberto Calderoli qui en appelle à l'aide à l'appel à être désensorcelé et bien cet appel est venu de nouveau du Katanga du chef Kienghe cette fois pour une cérémonie de désensorcellement et là encore filmé par cette équipe italienne de ce journal à sensation après pas sûr que la macumba lâche si vite Roberto Calderoli car dans quelques jours doit s'ouvrir son procès pour insultes racistes contre Cécile Kienghe et pour incitation à la haine raciale vous avez vu pour qui qui ne comprendra le français il signor Calderoli avait accusé cette femme l'aumilié davanti à l'Italie davanti au monde s'est sveillé un bel jour nous sommes africains eh les pregues nous faisons nous nous faisons les pregues c'est juste personne ne peut nous porterons un tribunal parce que nous faisons la colpa non però per puro caso avete visto la foto di Calderoli lì in Congo cosa hanno fatto Calderoli si è svegliato a vedere un serpente non so cosa a casa sua si è cominciato a sentirsi male nessuno gli augura il male ok questo è sicuro però per puro caso sono successe queste cose alla fine lui stesso in questo video ha chiesto alla famiglia della chienge di togliere quel malocchio che gli hanno messo perché lui crede che gli abbiano fatto un malocchio ecco allora quindi questa fine bossy quando ci diceva vi ricordate anni fa portiamo la casa loro sull'aereo non scende neanche l'aereo li prendiamo calci in culo e cadono sulla terra così ci mollano avete visto la fine oggi è nella merda fino al collo e nessuno lo dice ecco Calderoli lo stesso e mi fa piacere che da poco in un incidente un ragazzo africano senegalese in particolare era morto così è caduto dall'alto per le cose di sicurezza ok non entro nel merito lui è andato lì si è presentato cioè nel nel cordoglio mi ha fatto piacere vuol dire che ha imparato qualcosa ma questo Salvini non ha imparato ancora nulla Salvini ricorda di che prima o poi non so quando ma quei 34 che sono diventati 28 ritorneranno a 5 perché non puoi vivere nelle balle nelle fake news per crescere perché non hai mai fatto nulla di proposta che serve all'Italia ecco questo signore qua che sta con te nella Lega Nord vai da lui e impari qualcosa se non farai la stessa fine non è una minaccia è una realtà perché stai offendendo stai creando un impero su delle persone innocenti che nessuno può difenderli sei l'unico che può andare in televisione nei fake nei diretti facebook a puttanare queste persone che partano che corrono dalle guerre fuggono da destra a sinistra senza un briciolo di cuore no? li usi come un sciacallo ecco perché chiamo Salvini signor sciacallo signor sciacallo arriverà arriverà la tua ora è questione di tempo la verità vincerà sempre sulla bugia ricordati questo sei gente come questo Gianni di Alessandria crede a te alle tue parole a tal punto che tiri fuori gente che era fino all'altro ieri belle persone che ti accolgono che capiscono perché hanno sempre viaggiato l'immigrazione è partita dall'Italia siete andati in Australia in Germania in America vi hanno accolto sempre bene avete costruito i vostri imperi lì oggi tocca a voi e dovete chiudere tutte le porte oggi guarda caso il mondo che vi chiude le porte grazie a questo signor sciacallo Salvini ecco l'Italia ha un politico l'unico perché voi l'hanno sempre combattuto hanno sempre cercato di distruggerlo in tutti i modi ed è l'unico che ha cercato di fare cose concrete sull'immigrazione si chiama Matteo Renzi molte persone mi diranno no puh no è l'unico che mentre Salvini veniva nelle sagre a mangiare il cervello lui andava sui posti e parlava con i ragazzi non con i governanti ma parlava con i ragazzi io ve lo posso documentare qualsiasi cosa dico porto un documento guardate Matteo Salvini cosa faceva no Matteo Renzi prima quando Matteo Salvini andava nelle sagre Matteo Salvini Renzi da primo ministro italiano cosa faceva non stava qua nelle sagre a mettervi contro gli immigrati andava nel posto a casa loro come dicono a casa loro ok casa loro oggi casa mia mi stanno dicendo tu stai lì l'Italia è casa tua mentre in Italia cercano di buttarmi fuori casa mia non mi voglio neanche più perché sono in Italia e c'è il coronavirus hanno paura di me come hanno paura di un qualsiasi italiano che sbarca nella terra africana mentre fino a ieri saranno gli africani a venire qua oggi sono gli africani che hanno paura degli italiani ma guarda cosa il buon Dio fa guarda come strano il mondo guarda come cambia nell'arco di due tre mesi guarda Matteo Salvini il primo ministro italiano cosa faceva nell'università più grande del Senegal dove sono usciti tutti i presidenti africani Matteo Renzi è andato parlato in francese parlato con i ragazzi e io ne posso posso essere testimone eh i ragazzi hanno ascoltato il suo discorso gli ha parlato del signore che porta il nome di quella università che si chiama Cheikh Anteggio un italiano che viene un primo ministro che viene a parlarmi di un personaggio così importante a tal punto che gli hanno dato il nome di una università Matteo Renzi è andato a parlare con loro poteva fermarsi a parlare con il presidente della repubblica che è Machistallo oggi e basta no è andato là e non gli hanno dato centomila euro come va a prenderli oggi meritatamente in tutte le università del mondo perché è uno che conta ecco perché lo stanno combattendo in Italia mettendo il fumo facendovi credere che è l'uomo peggiore dell'Italia dovete ogiarlo guardate nel PD come era ogiato Renzi quando era segretario di questo partito figuriamoci quelli che sono all'opposizione voi italiani siete così ottusi a ogiare questo uomo che fa il bene dell'Italia il vero giusto programma per l'immigrazione come fermarlo andare a casa loro parlare con loro e rispettare aiutarli lì nel vero senso della parola non come dice Salvini aiutiamo le case loro poi mi dimentico oggi fino al governo di oggi non si sono fermati in Libia in Tunisia in Marocco e quello non è l'Africa nera no partono dall'Africa nera Renzi è andato lì ascolta cua con i tuoi orecchi io quello che ti dico ti faccio vedere con le prove senti Renzi qua all'università cerchi un tuo lavoro a Dakar ok e a 1994 il si è adressato della maniera che e è un'expressione molto interessante per me perché la ricerca della connessione era l'instrument e l'arma la più efficace la più adquata per ottenere la riconoscienza e la justice economica sociale e culturelle dont le gère africano e del mondo entiere ha bisogno Quindi possiamo dire che le università rappresentano i laboratori più appropriati per la costruzione di questa coscienza. C'è la ragione per la quale, quando io visito un paio, io cerco sempre di fare alcune rencontre a l'università. C'è la ragione per liberare l'immaginazione, dare la creatività, dare la creatività necessaria a dare un nuovo dynamismo, un sistema global statico e lethargico che reclame di nuove idee e di nuove forze della genezza. Ecco, questo è uno che va e lavora sul territorio, parla con i giovani e lì l'ha fatto da primo ministro. Non da esperto chiamato lì all'università a insegnare o a parlare, lì non ha preso un centesimo perché stava facendo il bene vostro. Quello che Salvini vi sta facendo così il cervello, lui è andato sul posto, parlato con i ragazzi, io ho sentito poi la reazione dei ragazzi. Molti dovevano partire, non sono più partiti, aspettavano le promesse, le cose che gli ha detto Renzi e nel frattempo, suo stesso partito, voi dell'opposizione, sciacalli come Salvini hanno fatto tutto per metterlo contro di voi. Ricordatevi questo e rivalutate Matteo Renzi, è l'unico politico che vi serve. Chi ha capito il francese ha capito cosa ha detto? Noi l'abbiamo capito, i senegalesi l'hanno capito. Ok? L'ha fatto in Nigeria, l'ha fatto in altri paesi, non si è fermato in Libia per trattare con chi governa lì, no. Lui era lì, ha parlato con il presidente nostro, però parlo con la popolazione, con i giovani. Dopo che ha fatto questo incontro con i giovani, Matteo Renzi ha parlato con la stampa. Ascolta, questo l'ha detto, detto, fatto. ...questo tre giorni in Africa, cultura, recuperazione e anche tante Europa in questi tre giorni. Oggi l'incontro con gli universitari, noi dopo tanti anni pensiamo che sia necessario che l'Italia sia presente in Africa. Perché è inutile dire aiutiamoli a casa loro se poi tagliamo sulla cooperazione. È inutile dire aiutiamoli a casa loro se poi gli altri paesi qui fanno le iniziative che servono per avere una buona cooperazione bilaterale e noi no. Di tutti gli elementi discussi in Nigeria, in Ghana e in Senegal, credo che molte siano le cose che ci portiamo dietro. Forse la cosa, come sempre, un po' ormai tradizionale è l'incontro con gli studenti e con i giovani delle università. Qui la metà della popolazione ha meno di 18 anni in Senegal, ad esempio, qui a Dakar. La dice lunga sul fatto che c'è bisogno di un investimento sulle nuove generazioni, un investimento però che si è fatto di cultura, di valori, di identità. Io qui oggi ho parlato di nuovo umanismo perché l'attenzione all'umanesimo in passato è stata una delle chiavi dello sviluppo dell'Italia. Avere dei valori e raccontare a questi giovani che cos'è l'Italia e come possiamo collaborare insieme è un grande elemento di forza. Quindi usciamo da questi due giorni in Africa con la consapevolezza che l'Italia è un grande paese e che in questo essere grande paese abbiamo bisogno di essere più forti sullo scacchiere mondiale, più forti in particolar modo nella relazione con l'Africa. Questo è Matteo Renzi, quello che state denigrando oggi. Italia viva le stanno dando al 2, 3, 4, 5%. Vedrai che se volete bene a questa Italia lo porterete al 15-20% perché è il politico che vi serve. Lo sanno i suoi avversari che là dove esce lui scompaiono loro, non contano nulla. Quindi li capisco, li potete capire, devono combattere, devono distruggerlo perché rovina il loro mercato. Questo è sicuro, ma è l'unico politico italiano che funziona. E attraverso le sue proposte, l'avete capito? 80 euro che aveva messo qua Salvini e tutti questi pappagalli li avrebbero tolto. No, sono venuti, l'hanno tenuto e ci hanno aggiunto 20 euro, che è il bene sempre l'Italia. Lui ha una visione, è giovane, ha una visione futura, non di questi politicanti o questi sciacalli che viaggiano non con le idee, ma a mettere i deboli contro i forti, o i forti sopra i deboli. Rivalutate Matteo Renzia, conta. E nel suo governo il ministro degli esteri, che era Gentiloni, che oggi è in Europa, questo l'ha fatto dopo che Renzi ha parlato, è andato in Africa, sul terreno, a casa nostra, a casa loro, come dice Salvini, casa loro, solo con la lingua, e non ha mai combinato nulla lì, li insultava, se va lì non li ascoltano, in Nigeria quando vuole, non gli hanno dato neanche il visto d'ingresso, vuol dire che non hanno, non conta nulla, quindi se non ti danno neanche il visto d'ingresso, come fanno ad ascoltarti? Renzi non è mai stato bloccato da nessuna parte, è apprezzatissimo in Africa, e rimpiangono di aver perso un primo ministro così in Italia, così giovane, che poteva rinnovare l'Italia, cambiare l'Italia, ma qualsiasi proposta fa, lo adottano ma non gli danno mai, mai la soddisfazione di dirgli sì, ha fatto bene, vergognatevi voi tutti i politici italiani, di destra e di sinistra, lo dico, io sono qui dai tempi di craxi, tutti i governi sono passati, li ho visti, quindi so tutto, ho analizzato e li seguo, queste immagini se ve le faccio vedere vorrei che seguo l'uomo Matteo Renzi, Matteo Salvini lo seguo dal 93 che era qui, sono arrivato in Italia che era un ragazzino, non contava nulla, ecco, quindi le sue balle, le sue fake news che ha fatto diventare l'Italia racista, fascista di tutto, non lo accetto, lui deve rispettare me, io pago le tasse, il lavoro, la sante, la salute, cioè io perché non dovrei avere il diritto di andare in ospedale senza essere usato come strumento di propaganda, pago le tasse, cioè se pagate, cioè gli ospedali li sto pagando pure io, ok, ma lui non mi calcola, ecco perché gli aiuti che sta cercando di dire, che il governante, ricordatevi degli immigrati che sono qua, che sono regolari, che pagano le tasse, quanto tanto, più di italiani che non pagano un centesimo, ok, gente che lavora, hanno loro figli, loro moglie qua, qualsiasi euro date a un italiano dovete darlo anche a loro, ricordatevelo, perché salvi di questo non vuol dire mai, per fortuna divina, nessuno si è sentito male, non abbiamo ancora occupato un letto dell'ospedale per dargli la possibilità di usarci come propaganda, ecco perché sto dicendo che il tuo impero si scioglierà come la neve, tra poco, signor Sciacallo, signor Salvini, ecco, buon, avete visto, vi faccio vedere, gentiloni, gli accordi che hanno preso, sono questi accordi che frenano l'immigrazione, loro andavano a lavorare sui posti, mentre Salvini era qui, nelle piazze, nei mercati, a fare campagna che non finiva, gentiloni, Renzi andavano a lavorare sui terreni, a casa loro, a casa nostra in questo caso, ecco, ecco i gentiloni, poi arrivo, vi saluto. Il Senegal è un paese strategico all'interno del processo di Rabat, foro di dialogo regionale tra l'Unione Europea e i paesi dell'Africa occidentale, centrale e mediterranea, per l'efficace gestione dei flussi migratori. Arriva a dirlo, è stato il ministro degli esteri Paolo Gentiloni, durante una bilaterale con il suo omologo senegalese, incontrato il 17 febbraio alla Farnesina. Oltre a collaborazione politica e cooperazione allo sviluppo, i due ministri hanno affrontato anche il tema delle crisi regionali in corso, del quadro di sicurezza in Libia, Mali e Nigeria, e del rilevante ruolo di stabilizzazione svolto dal Senegal, insieme all'impegno nella prevenzione e nel contrasto all'epidemia del virus Ebola. Al termine dell'incontro, i due omologhi hanno firmato un accordo di collaborazione in materia culturale, tecnica e scientifica, che riveste una notevole importanza anche per la folta comunità senegalese in Italia. Vedi, questo è un accordo giusto, questo è una politica reale, non basata sulle parole ma sui fatti. Ecco, ditemi tutti questi governi Salvini, Di Maio, cosa hanno fatto? L'unica cosa che senti? Cercano di andare in America, di farci fotografare davanti alla Casa Bianca, o di parlare con uno per dire, ah, siamo stati in America o in Russia con Putin, ma mai li hai visti con un presidente africano nero, mai? Neanche Conte, che sta lavorando alla grande, sta gestendo bene, non si è degnato di andare in Africa e incontrare un presidente africano e parlare di lui dell'immigrazione? Di che cosa ci date? Perché non tenete i vostri figli? Se voi aiutiamo qui a casa vostra, come diciamo? No, non lo fanno. Vanno nel mercato lì, ho la sagra, questo sciacallo qua, dalla mattina alla sera, senza di noi, non contava, non sarebbe contato nulla e continuano a volerci usare. Ora basta, italiani svegliatevi. Questo qui rimandatele in Padagna dove stava, che è lì il suo posto. Ok? Questo che vi faccio vedere come ultimo video è una, è senegalese, vive in Svizzera, è una veggente. Lei aveva previsto questo incendio grosso in Australia ed è successo. Io non credo tanto a queste robe qua, però lei l'ha previsto ed è successo. Sinceramente ve lo dico. Mi ha chiamato, mi ha mandato questo video in francese e mi ha chiesto di mandarlo e un messaggio agli italiani. In modo particolare a Venezia, perché lei ha visto che a Venezia succederà una marea. però dice che non questo passato ma una più grande e dice su questo video, chi capisce il francese, ve lo metto, lo capirà, per quelli che non capiscono il francese vi dico più o meno cosa ha detto lì in questo video. Si chiama AB666, 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 AB666. Lei dice di essere posseduta, che ha delle visioni, ha visto a Venezia questa marea e dice che prima della marea succederà che 20 o 25 palazzi crolleranno e ci saranno dei morti. Io vi dico, vi consiglio di mettere tranquillamente le mani in modo molto rilassato sotto, vi toccate un po' e poi tornate come se niente fosse. Non l'ho detto, io l'ha detto lei, più o meno è quello che ha detto. Ha fatto una previsione per Salvini in persone, in persona, il suo nome Salvini, in francese ha detto Sal-vi, vita sporca, vita, Sal-vi, non ha tradotto così il nome di Salvini. Quindi, lei da lontano, da fuori Italia, vede Salvini e ha avuto questa visione. L'ha detto lei, non l'ho detto io. Con questo vi mando AB666 e saluto tutti quanti e vi chiedo scusa se non ci siamo sentiti male. È un fatto divino. Forse perché un buon Dio ha voluto salvarci perché se fosse arrivato il primo caso italiano qua da un immigrato, Salvini sarebbe diventato il re d'Italia. Peggio di Mussolini, questo è sicuro. Voleva i pieni poteri, l'avrebbe raggiunto, ma le è andato male. in più non c'è ancora un immigrato. Io potrei domani sentirmi male, ma fino ad oggi non mi sono sentito male e nessuno dei miei simili, nessuno dei miei immigrati si è sentito male. Grazie a Dio. Questo signor Gianni è quelli che la pensano come lui, tutti i leghisti a Salvini vi dico eh, così, te, ecco, bene. Dio ha fatto sì che la tua politica deve crollarsi. è ora di finirla, di attaccare gente debole che non sa come difendersi per il tuo bene personale. Uno che non ha mai lavorato, non ha mai fottuto nulla per questo Stato, sta usando lo Stato perché ha la scorta pagato dagli italiani, pagato dagli immigrati che lavorano con le loro tasse e si sta lamentando perché ospitano immigrati nelle strutture. Vergognati. Tu, Gianni e tutti i leghisti che la pensano come voi, e tutto il popolo che ti vota. Peace and love guys. Italiani, vi rispetto, rispettiamo le leggi italiane, lo sappiamo. Siamo qua, pronti a morire insieme a voi per questo coronavirus. Siamo facendo tutte le preghiere da tutte le nazioni dove arriviamo perché Dio ti preserva e preserva voi da questa malattia. Peace and love. Vi adoro, vi amo. e sono chargata di mission per dire questo il va y avoir a Venise dei effondriament dei villas che si fanno in Venise prima la maria il va y avoir dei masi che si fanno a Venise con delle victime c'è un messaggio che io envoio a tutta l'Italia a la ville di Venise avant qu'il y a le grande maria qui va envoio Venise encore une de plus avant ça il va y avoir dei masi entre 20 e 25 masi dans Venise qui va s'effondrer sous l'eau avant que qu'on parte de maria haute voilà c'est ça que j'ai vu comme vision et je vous l'envoie pour Salvini Salvini ton nom est déjà écrit sale vie toute ta vie a été sale maintenant c'est un immigré qui s'appelle Abhi qui vit en Suisse qui vous envoie ce message ce qui va arriver a ton peuple dans peu de temps il va y avoir entre 20 et 25 maisons qui vont tomber dans l'eau avec des cadavres dedans c'est moi qui vous le dis Abhi 666 depuis la Suisse il y a des Sénégalais il y a des Sénégalais il y a des Sénégalais qui vivent sur Venise qui me suivent qui me connaissent et j'en ai contacté ils peuvent je les ouvre et j'en ai